Quest'anno è un anno per noi particolare, molto importante perché festeggiamo i 50 anni degli scavi di Forum Semproni, ma anche i 50 anni si può dire dell'attività archeologica lungo la via Flaminia, che è stata iniziata appunto nel 1974 dal mio maestro Mario Luni, che per decenni ha insegnato archeologia all'Università di Urbino e si è occupato della ricerca archeologica sulla via Flaminia. Partirà dal 5 luglio il nostro semestre archeologico che si svolgerà per tutto il secondo semestre dell'anno e culminerà con la bellissima mostra che avremo da ottobre a dicembre perché avremo il ritorno del Vertunno dal Museo archeologico di Firenze. Quindi per noi è un semestre ricco di eventi dove toccherà più genere di età, abbiamo pensato anche più giovani, infatti avremo un concerto nel nostro bellissimo parco archeologico il 29 di agosto e avremo delle bellissime conferenze guidate dai nostri direttori onorari museali, dalla dottoressa Varen Sarani che è la nostra direttrice onoraria della rete Flaminia con altri sette comuni della provincia e avremo delle conferenze guidate dal nostro direttore onorario dei musei, il dottor Oscar May. Tutto questo grazie comunque alla collaborazione con ConfCommercio che non ci ha abbandonato neanche in questo momento e quindi con grande orgoglio mi sento di dire e di affermare che sarà un semestre che porterà tantissima presenza, tantissima curiosità. Faremo due mostre, una sarà una mostra documentaria, quindi ripercorreremo i 50 anni di scavo appunto dal 1974 ad oggi con le principali scoperte che in questo periodo sono state fatte. Poi faremo un'altra mostra in autunno per celebrare un'altra ricorrenza perché il 2024 è un anno ricchissimo cioè i 150 anni dal rinvenimento dei primi bronzetti, cioè delle prime statuette di bronzo a Isola di Fano lungo il torrente Tarugo. Nel 1874 si ritrovarono alcune statuette di bronzo che sono finite per la maggior parte nei musei di tutta Europa, sei per esempio sono al Louvre e tornerà a Fossombrone una di queste statuette, la più importante, che non si trova al Louvre ma si trova al Museo archeologico di Firenze. Quindi faremo una mostra, in questo caso archeologica, celebrando anche questo anniversario.